Dovevamo recuperare i codici di lancio da questo professore Elliot. Beyrd e Sofia dicevano che era un brav'uomo. Forse lo era. Cercavo di non pensare che la sua arma mi aveva bruciato a mezza faccia. I vermi stavano aspettando qualcuno e visto che non c'era nessun altro, quel qualcuno eravamo noi. Tenente, passando da quella casa arriveremo da Elliot. Sì, passando da quella casa. Forza! Un grande! Un grande! Falsch! Un grande! Un affinamento! Capito! Una nata! Ehi, l'ha preso uno! Ora va meglio! Va bene! Va bene! A che cambiare l'acqua? Buongiorno! Saron! Deviamo di collaborare! Un Kranger! Vai! Quest'incontra è finito! Pesate il fuoco! Ora va meglio! Con all'Umis, Omega 2 ha appena distrutto il Sider all'aeroporto! Riesci a sentirmi? A malapena! Qual è la vostra condizione? Ci sono dei vermi molto grossi a condurre l'attacco! Stai combattendo contro degli animali! Spingeteli in mare! Hai capito? Signore! Signore! Io... Mi hai capito? Signore! Quella cosa! Altri 3 Sider con lui! Deve essere lui a bloccare il nostro! Smetti di parlare combatti! Oppure vengo lì e ti sparo io stesso! D'Aaah! 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 Sembra che Karn abbia vanificato l'evacuazione dell'aeroporto! Quando Karn se ne andò, a Goraznia non era rimasto un solo aereo! D'Aaah! 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 Grazie a tutti.